Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che sarà molto variabile e instabile nelle regioni settentronali. Passa una perturbazione e porta a quazzoni temporali, magari di breve durata però, ripeto, tempo molto variabile e alla fine del giorno situazione di impeggioramento anche al sud per una perturbazione in arrivo dal nord Africa. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, per il nord sarà una giornata molto variabile, nubi alternati sia a qualche schiarita ma anche a quazzoni temporali e poi come vedete nella seconda parte del giorno nuvole sempre più compatte nel sud dell'Italia e come precipitazioni, a quazzoni temporali diciamo previsti al nord, soprattutto sulle regioni di nord-est, tra l'altro anche con un po' di neve sulle Alpi ma per il momento a quote alte e poi verso la fine del giorno arrivano delle piogge anche all'estremo sud a cominciare dalla Sicilia. Quindi in definitiva diciamo giornata molto variabile al nord e in Toscana, qualche acquazzone, qualche temporale, comunque di breve durata e poi tra pomeriggio e sera prime piogge in Sicilia, in estensione poi anche al basso Tirreno, meglio sull'Italia centrale come temperature, valori che iniziano a calare al nord. Con questo è tutto, per i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.